Nella puntata di ieri ci siamo detti che vogliamo un attimo pensare, riflettere sui poveri. E quando diciamo poveri dovremmo un po' tutti sentirci poveri. Spesso ho letto che Papa Francesco starebbe troppo a parlare dei poveri. Lo si accusa di parlare troppo di poveri, lo si accusa di essere comunista perché ci parla sempre di immigrati, di carcerati, perché accoglie in Vaticano persone poveri che vengono dal mondo. Perché, perché, perché? È vero, Papa Francesco dice troppo sui poveri, ma l'accusa che gli si fa dice invece di parlare dei poveri non parla mai della vita eterna, non parla mai delle grandi tematiche teologiche, e sta sempre a parlarci dei poveri. Sta sempre a dirci dei poveri. Bene, è vero, ma attenzione! Qual è il senso dell'essere credenti? Qual è il centro e messaggio del Vangelo? Vedete, io spesso sono andato a rivedermi il Vangelo. Gesù non ha fatto mai lezioni di teologia. Gesù, da buon ebreo, qual era, ci ha annunciato un volto diverso del Padre. Gesù ci ha parlato di vita eterna, Gesù ci ha parlato di felicità, ma ci ha detto qualcosa di essenziale. cioè ci ha detto che alla fine tutti, tutti, e questo è Vangelo, se poi chiudiamo gli occhi dinanzi al Vangelo, è un altro discorso. Tutti saremo giudicati sull'amore. Difatti, l'Evangelista Matteo, nel capitolo 25, mi auguro di aver detto bene il numero, cosa dice? parlando del giudizio universale, che coloro che sono accolti nel Regno sono quelli che ero carcerato e mi hai visitato, ero malato e mi hai visitato, nudo e mi hai vestito, fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, la vita eterna è possibile viverla già qui se noi ci lasciamo evangelizzare dai poveri, se noi diventiamo poveri, se noi condividiamo quello che abbiamo con gli ultimi, se noi negli ultimi accogliamo, integriamo, puliamo, diamo da mangiare, da bere, eccetera, andiamo a visitare, tutti questi, noi, se facciamo tutto questo, noi lo facciamo a Gesù stesso. E allora benvenga Papa Francesco, che continui a parlare dei poveri, così come faceva Gesù, senza l'amore al povero non c'è vita e non c'è vita eterna, perché la vita eterna inizia qui e inizia quando io riesco a dare la mano a chi me la tende, ad abbracciare e a rialzare chi è a terra e a far sorridere chi è triste. Noi ci vediamo domani, Padre più TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!